questa manifestazione che partirà a milano speriamo che abbia un grande successo forse io farò la prima tappa e l'arrivo sarà roma la bicicletta è uno degli sport più belli perché se uno la comincia a fare non la smette mai sono con voi con sport senza frontiere viva bike for c'entrano sono con voi